Salve, sono Massimo Chiaramonte, Presidente dell'Associazione Nazionale Porpora Trombotica Trombocitopenica, altrimenti detta sindrome di Moscovitz. Quando ho deciso di partecipare è stata più che altro una scommessa e devo dire che probabilmente quando finirò questo corso forse la scommessa l'ho vinta. Per quanto riguarda la giornata di oggi, come anche l'altra precedente, sono state tutte giornate che hanno contribuito alla conoscenza e quando c'è la conoscenza certamente c'è più dialogo, sia da un fronte che dall'altro fronte. Sono contentissimo di partecipare e ho trovato anche tante persone con le quali si stanno stringendo delle amicizie e ci si fa anche un sacco di risate. Grazie.